Le signore Franca e Cristiana Meloni, nipoti del Maggiore Meloni, nonché madrine della cerimonia, accompagnate dal comandante regionale Abruzzo, dal prefetto della provincia di Teramo, dottor Fabrizio Stelo, dal vicario foraneo di Giulianova, diocesi di Teramo-Acri, Don Enzo Manis, dal comandante provinciale di Teramo, dal sindaco della città di Giulianova, Ivan Costantini, e dal comandante della compagnia di Giulianova, sono invitati a raggiungere il luogo in cui è ubicata la targa da scoprire. Si dà ora lettura della motivazione dell'idea di Giulianova, intitolazione al Maggiore Medaglia di Bronzo al Valor Militare Giuseppe Meloni. Seguito da tre guardie, riusciva a catturare otto avversari. Subentrato all'ufficiale ferito, nel comando di una sezione di fra gli agrici, la dirigeva con perizia ed efficacia, traendone il massimo rendimento e concorrendo in tal modo a mantenere la posizione riconquistata. Monte Seibusi, alture di Vermegliano-Carso, 22-24 luglio 1915. Si procede ora alla scopertura della targa commemorativa. Donetto Manes, vicario foraneo di Giulianova, Diocesi di Terra Moatri, procede ora alla benedizione della targa commemorativa. Nuova in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo e la visione di Cristo Signore, che ci sia risorto per la nostra salvezza. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, era sempre, nei secoli dei secoli italiani. Grazie.